Dari, ce l'ho fatta. Ottimo. Dove sei? Una specie di tunnel di servizio. Sono dall'altra parte. Lo segui e arriverai alla colonia. Ho giunto la colonia. Tu dove sei? Vedi il faro? Ti affetto lì. Faro, dicevuto. All'altra parte. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. 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 , sì, 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 sì. 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 Sì. Sì, sì. 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 Tutto a posto! Sì Il passaggio è crollato Per salire in superficie dobbiamo attraversare la colonia Non fermarti, ci vediamo là Sì Il piano superiore è Jacob Cerca la clinica Cerca la clinica Cerca la clinica Qui dentro, presto! Per poco Cerca la clinica Cerca la clinica Cos'è quella cuba? Non c'era prima No, allora Era la miniera Arrivava fino in superficie Per chi? Non lo so Ma dobbiamo passare lì per tornare alla prigione Non c'era prima No, non c'era prima No, non c'era prima È l'ora di condividere le nostre scoperte Il cugnine di decenni di ricerca Chi si rivolge? Non a noi Cerco di scaricare più dati possibili Ci vediamo dentro la cupola È iniziata con una chiamata di emergenza Un contagio misterioso La sintomatologia era affascinante E va Una forma di evoluzione accelerata Simile a quella scoperta a Parano Se riusciremo a capire la malattia Potremo re-ingegnerizzarla e studiare Una volta messo in sicurezza il sito È stato costruito un laboratorio E poi una prigione Una base di ricerca Con tante cavi a disposizione Ecco Per costruire Black Eye Dopo decenni di ricerca È tutta una specie di esperimento Siamo vicini alla me Il lavoro di cui è partito Un nuovo cammino Ma questo sento Cos'è quello? Una creatura aliena Liberata dai minatori Quando hanno penetrato L'oceano sotterraneo di Callisto Era già morta Uccisa dalle forze di sicurezza Nella Tarkas però Abbiamo trovato migliaia di larve Vettori di malattie Nell'epatogeno biologo Abbiamo raccolto dei cambiumi E li abbiamo portati al laboratorio Su Europa Il patogeno agito Da accelerante evolutivo Mutando i coloni Poco più che Miserabili nostri E certo Il cosiddetto Soggetto a zero In qualche modo È riuscito a ottenere Sono i benefici Forza, resistenza E lungilità Reservando la propria ragione È stato ucciso Dalle forze di sicurezza Ma il suo corpo È stato portato Alla vera Per avviare Il programma Di cerco Oh Cristo Cinque, due, uno Io e te Abbiamo un affare In sospeso Ma l'effetto Come vedi Le cose sono cambiate Vengo La porta per la superficie Verano si apre La pipa Si attivano di vivo Nessun Possono Nessuno Nessuno Ci vi è arrivato Troppo Dio No Cercava soltanto Un'altra Ma presto Sarà Un'altra Sto bene Non fermiamoci Quella piattaforma Ci porterà In superficie Ce l'abbiamo fatta Dani Dani Ehi 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 Non è giusto Merda Ho permesso di fermarvi Diventerò una di quelle cose No, 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 no Ok, non succederà Senti Troveremo Come? Ci atterremo al piano E arriveremo fino alla torre del direttore Ci sarà il modo di invertire il processo Non può saperlo Lo troverò Non ci arrenderemo adesso Arriveremo fino in fondo Insieme Ok Ok Dai Alzati Stai bene? Per ora Questa ti servirà Ok Ci siamo quasi Non riconosco quest'area Dove siamo? Morto da tempo in me Non riconosco quest'area la prigione al pilota automatico il sistema è andato a buttane ce l'ho quasi fatta dobbiamo andarcene da qui buona idea il segnale del direttore ancora attivo nella torre possiamo raggiungerlo pare di sì mi occupo della porta tornare alle celle